Salve, sono il dottor Francesco Caritano, biologo nutrizionista, lavoro un po' in tutta Italia, da Milano fino a Catania. In questo bel congresso di oggi ho parlato di fibromialgia, l'impatto epigenetico sulla sindrome fibromialgica, meglio chiamarla così, dove ho presentato tanti lavori che ovviamente andavano nel senso di cercare di migliorare questa condizione che spesso e volentieri ancora viene molto trascurata. Ho parlato nella mia relazione di vari aspetti, dall'aspetto mitocondriale, dall'aspetto della matrice extracellulare, all'aspetto del disequilibrio neurovegetativo. Ho cercato anche di parlare un po' di quello che potrebbe essere una nutrizione che potrebbe aiutare il soggetto fibromialgico, un'integrazione intelligente, ho parlato molto del self-food, perché ovviamente quando si ha un discorso di disfunzione mitocondriale quindi abbiamo un'arma oggi molto efficiente per cercare di migliorare la qualità di vita del paziente, ma insieme anche al self-food c'è anche, ho parlato anche del same, di tanti prodotti che possono andare a fare bene in questa patologia. Ovviamente io utilizzo da tanti anni anche l'S-Drive perché attraverso l'S-Drive ottengo tantissime informazioni e ho presentato nella mia relazione tre casi clinici in cui sono andato di tre soggetti fibromialgici dove utilizzando l'S-Drive ho ottenuto grandi informazioni perché è importante utilizzare questo strumento perché dobbiamo avere informazioni e attraverso poi la clinica andare a migliorare attraverso quello che viene fuori dal referto, migliorare quello che è l'aspetto diciamo di salute della persona. Vi ringrazio.